Benvenuti in questo esperimento. Oggi voglio triplicare un ammorbidente e lo voglio anche potenziare. Cioè voglio renderlo anche disinfettante perché l'ammorbidente è l'ultimo passaggio che fa la lavatrice. Si può usare un qualsiasi ammorbidente a vostro piacere. Può essere un ammorbidente ecologico o un ammorbidente di cui vi piace l'odore. Quali sono gli ingredienti? Il primo ingrediente è l'acqua. In questa preparazione è fondamentale che l'acqua sia demineralizzata. Quindi si può prendere anche l'acqua di un condizionatore, visto che siamo in estate è facile avere il condizionatore in funzione. Allora prendo quindi un chilo e mezzo, un litro e mezzo che è la stessa cosa, di acqua. Anzi no, un litro e trecento per essere precisi. Dieci, venti, trenta grammi in più non succede nulla. Però sono un litro e trecento grammi. Poi indicherò tutto sotto nell'info box. Chiedo scusa ma sono estremamente influenzata e c'ho anche un po' di febbre per cui sono anche lenta nel parlare. Quindi gli ingredienti sono l'acqua demineralizzata che vado a versare nella mia bacinella. E poi come vedete ci sono quei due barattoli di cui ho fatto un video precedente che vi linkerò. Dove ho aromatizzato sia l'alcol denaturato, perché l'alcol denaturato ha un odore non piacevole e l'ho potenziato con le foglie di eucalipto. E ho aromatizzato, sempre per le pulizie, anche l'aceto di alcol con le bucce di agrumi. Quindi adesso vado a mettere appunto questi due componenti. Allora, di aceto di alcol, se volete potete aromatizzarlo anche voi, vi linkerò appunto il video. Altrimenti potete mettere cento grammi di aceto di alcol. Si vende anche l'aceto di alcol aromatizzato a limone, eventualmente. Comunque a me piace molto aromatizzarlo. Farò un altro video in cui userò anche la lavanda, perché sicuramente dà una profumazione maggiore. Comunque lasciare poi macerare la droga sia nell'alcol che dentro l'aceto. Lasciarla lì tranquillamente. Intanto si conserva, non si rovina. Quindi cento grammi, abbiamo detto, di aceto bianco. Adesso vado a mettere anche cento grammi di alcol. Come vedete ha preso questo colore verde. Non è più rosa. Ha preso questo colore verde grazie all'eucalipto. E sono sempre cento grammi. Quindi un chilo e tre di acqua, cento grammi di alcol e cento grammi di aceto di alcol. Non vi posso dare una spiegazione scientifica perché è un esperimento. Ciò che posso dire è questo. Spesse volte si usa per ispessire, come si può dire, un detersivo, il bicarbonato. Ma in questo caso il bicarbonato farebbe separare, magari non subito, ma nell'arco di una giornata, farebbe separare l'ammorbidente dall'acqua. Quindi avremo l'acqua sotto e la parte di sopra sarebbe l'ammorbidente. Quindi in quel caso lì non sarebbe riuscito il prodotto. Invece l'alcol fa sì che resti omogeneo questo detersivo. Non si dovrebbe separare. Io l'ho tenuto tranquillamente un giorno ed è rimasto tale e quale. Per cui penso che l'esperimento sia riuscito. Intanto vi dico anche le dosi dell'ammorbidente. Quindi sono 500 grammi di amorbidente. Quindi continuo il discorso. Per quanto riguarda invece l'aceto, l'aceto ha più di una funzione. Quindi oltre a tenere in salute la lavatrice, comunque abbiamo messo solo 100 grammi di aceto e quindi di acido acetico ce n'è veramente poco. Nello stesso tempo l'aceto, essendo appunto acido, aiuta ad ammorbidire i tessuti. Quindi ecco che abbiamo potenziato l'ammorbidente appunto con l'aceto. In più l'alcol fa anche la funzione di conservante perché abbiamo comunque aggiunto dell'acqua. Come vedete l'ammorbidente è liquido già di suo. Non è denso, non è viscoso. Per cui è normale che anche il nostro amorbidente potenziato resti piuttosto liquido. Sto registrando con i gatti che mi saltano addosso. Per cui scusate se ogni tanto faccio delle pause. Io ho tenuto come dicevo una giornata questo detersivo fermo per vedere se si scomponeva, se si divideva. E devo dire che per fortuna è andato tutto bene. L'ho già usato una volta sola. Chiaramente io che non sono abituato agli odori forti sento questo odore abbastanza persistente. Quindi diciamo è per la gioia di chi ama l'ammorbidente e soprattutto per il profumo. Ecco in questo caso si può avere quindi l'ammorbidente e anche il profumo. Con questa ricetta poi successivamente farò ancora delle ricette. Farò delle ricette che riguardano invece la pulizia di casa. Intanto spero che vi siate iscritti al canale. Così mi date una mano a crescere. E vi dico anche le quantità di usare di questo amorbidente. Allora la quantità deve essere la stessa quantità che è indicata dal fornitore. Sulla confezione del fornitore dell'ammorbidente insomma. Della ditta che ha fatto l'ammorbidente. In tutti i casi non bisogna superare la quantità che è indicata nella lavatrice, il suo cassetto. Perché altrimenti se ne va giù, scorre e si spreca. Non serve a nulla. Serve solo ad inquinare. Perché gli ammorbidenti in realtà sono estremamente inquinanti. Però questa è una ricetta dedicata all'economia familiare. Per cui spero che vi sia piaciuta. Fatemelo sapere. Io vi aspetto al prossimo. Ciao.